ciao a tutti e ben ritrovati qui su un'altra puntata appunto di questa nuova serie questa serie che si chiama rivelazioni estate 2023 in cui è successo tante cose molte tante cose inaspettate cose che non mi sarei mai immaginato e da lì mi rendo conto che comunque non siamo soli assolutamente no dentro di noi c'è un mondo collegato a un altro mondo per cui è impossibile pensiamo che noi siamo gli autori e gli artefici o che siamo soli che dobbiamo contare solo su noi stessi cominciano indottrinato eccetera assolutamente no c'è un mondo di cui noi facciamo parte e che comunque abbiamo anche una responsabilità collettiva perché è un insieme di anime che vibrano al stesso ritmo questo se solo per scoprirlo bisogna entrarci e se non c'entri non lo sai allora nella scorsa puntata ero rimasto dal punto che avevo raccontato lì della marianne che che era una persona con cui avuto un enorme ma neanche tanto siamo visi solo due volte una bellissima che pochi minuti un'altra forse più un paio d'ore ma si è riacceso diciamo noi una profondità che è una cosa tante cose diciamo da là io sono stato un canale per lei e lei è stato un canale per me diciamo insieme dovevamo incontrarci per risvegliare determinate cose l'uno nell'altro e lei essere il mio canale con lì quando io non sono lì ed io trasmettere delle cose a lei quando non sono lì ma non sono io che le trasmetto nel senso volontariamente prendo e mando un pensiero eccetera assolutamente no è qualcosa che che va oltre che tramite i nostri spiriti stessi che comunicano diciamo qualcosa che va oltre di noi che si sono comunque riallacciati siamo tutti collegato il tempo e la distanza è solo una percezione per questo esiste solo il qui ed ora e cosa ne facciamo per cui dobbiamo usarlo nella spiritualità l'unica realtà ed usare la materia a beneficio di essa e qui d'ora è l'unica realtà non ce n'è altre passato è passato il futuro non sappiamo per cui non ha senso nemmeno preoccuparsi avere paura questo quadro che non possiamo controllare nulla dobbiamo solo vivere le esperienze vivere l'emozione che è comunque il meglio per noi se siamo collegati alla nostra frequenza spirituale per questo dobbiamo dimorare lì perché se non dimoriamo nella nostra frequenza spirituale di coscienza automaticamente saranno in preda ad ogni cosa esterna paura incertezza eccetera per cui dipende da noi dove vogliamo stare quando siamo stufi di subire tutto quello da fuori forse è momento di cominciare a viverci dentro che è molto più felice serena tra l'altro è in armonia e comunque non ti privi di niente perché il fuori viene aumentato quello che ti arriva qui ti arrivano un sacco di cose belle per cui perché no è l'unica realtà appunto il qui ed ora perché il qui ed ora è quello che comunque vai a creare il dopo il dopo non esiste il dopo starai vivendo il qui ed ora del dopo basato su quel qui ed ora che hai vissuto adesso per cui dobbiamo vivere adesso non il dopo dopo sono una conseguenza adesso se noi stiamo pensando dopo non stiamo pensando all'adesso e il dopo comunque sarà sempre una conseguenza di una cosa che non è stata nemmeno voluta perché stavamo pensando dopo lo stiamo pensando a quello di adesso è come dire penso a quello che mangio domani e cosa fai non mangi adesso è uguale stesso concetto per questo dobbiamo comunque capire che è solo il qui ed ora che esiste basta e per questo ogni secondo ogni minuto essere responsabilmente vissuto in modo consapevole consensioso e soprattutto dentro noi stessi così il fuori diventa determinato da quello che abbiamo dentro poi dopo rispondevo appunto anche a qualcuno che mi ha scritto a riguardo di questo punto sul gruppo e scrivo ognuno è l'ossamano di se stesso poi ci sono svariate frequenze per entrare in varie dimensioni viaggiare altri pianeti chiara obbergenza battaglie spirituali anche a distanza messaggi tra i vari mondi eccetera eccetera c'è un mondo intorno noi che noi non vediamo ma possiamo averne un po un assaggio un qualcosa eccetera però per entrare in questo dobbiamo entrare dentro noi stessi perché fuori vedrai solo quello che ti viene proposto da un film scritto da altri per cui mi senti a me non è un grande interesse però di certo non sono scritte per aiutarci ad aumentare le nostre qualità dentro di noi ma ad alimentare un sistema fuori per cui credo che sia più importante alimentare quello che abbiamo dentro che poi dà accesso ad altre realtà e altre dimensioni in sincronia io ad esempio ogni tanto a distanza riesco anche a cambiare le energie dei posti e proteggere le persone anche se sono distantissime proprio perché la distanza è cosa fisica e non spirituale allora vuoi portare questo esempio il potere della mente e il potere dello spirito della coscienza può andare ovunque nel mondo tu puoi percepire anche un qualcosa che esempio come una madre un figlio o due gemelli eccetera che si sentono a distanza anche se saranno dall'altra parte il mondo come fanno fanno perché hanno quella percezione spirituale che arriva oltre e tramite energia quantistica arriva quella persona lì per cui noi possiamo anche cambiare e se quella persona sentiamo che c'è un pericolo eccetera come una madre sente il pericolo per i figli magari a distanza prega tanto per lui quella eccetera e lo salva da quella situazione da quel pericolo e come fa questo abbiamo chiesto perché rientra in un qualcosa di spirituale di qualcosa che ha dentro per cui vuol dire che noi dentro siamo potentissimi non c'è spazio o tempo che può fermarsi questo io dico che la realtà non esiste è solo una cosa materiale ma tu quando tu entri nel diciamo nella dimensione spirituale puoi viaggiare anche a distanza e cambiare cose anche a distanza più dimori nella luce e più viene potenziato per svolgere certe funzioni perché altrimenti si creerebbero danni e di conseguenza non ci vengono date certe nozioni e capacità per avere la chiave di accesso per entrare in altre dimensioni devi cambiare il tuo stato di coscienza perché se no rimane stato animale stato animale è quello che definisco maggior parte gente definisce la terza dimensione che quella proprio dove tu vivi di impulsi esterni sei praticamente come un animale di dimori nella rabbia l'incertezza nella paura in questo in quell'altro c'è tutte queste illusioni che non esistono non esistono perché perché tu non puoi avere paura senza che tu la soggetti a un'idea è un'illusione enorme enormissima tu nel momento che stai vivendo una situazione difficile eccetera non hai nemmeno tempo per avere paura stai vivendo qui ed ora e la risolvi la paura viene solo assoggettata a un'idea per cui è pura illusione pura illusione come l'incertezza come tutto è solo assoggettata a un'idea e se tu avrai paura riceverai paura se tu hai incertezza riceverai incertezza se tu hai lamento riceverai qualcuno a cui lamentarti dipende tu cosa coltivi dentro quello ti arriva fuori perché noi siamo come delle trasmittenti e riceventi per cui o ce lo mettiamo in testa e decidiamo noi dove dimorare o se no rimaniamo a livello animale e andiamo avanti per forza d'inerzia di quello che ci arriva fuori ma allora comunque saremo uno stato animale perché lo stato umano è live e tiene quell'involucro per diciamo attivare tutti chakra tutte le energie che abbiamo dentro per elevarsi al mondo spirituale cose che gli altri esseri viventi non hanno per cui l'essere umano serve a questo per elevarsi non per abbassarsi a un'idea di una paura di un qualcosa come tirarsi la martellata sul piedi c'è casomai l'idea perché perché farsi del male da soli non ha senso togliamoci queste idee di negatività e rimpiacciarne con altre positività così saremo felici vibreremo felicità attireremo felicità è tutto da noi non è così difficile queste sono cose semplici che ognuno di noi può fare basta uno dice per una settimana qualsiasi cosa negativa mentre in testa la mando via dopo una settimana vedo come sto a livello di coscienza facciamo questo esperimento semplicissimo cioè abbiamo tutti i poteri nelle nostre mani usiamoli cioè non possiamo usare da altri e fare una vita insipida solo perché non vogliamo no entrare dentro noi stessi in quest'era qua l'ignoranza è una scelta c'è informazione di tutto di più da ogni parte per cui siamo solo noi a scegliere di rimanere in uno stato animale o no per cui quello che dico cioè se invece noi vogliamo accedere in altre sfere in altre frequenze dobbiamo comunque entrare nel nostro nella nostra coscienza c'è di marci sanificare la nostra mente i nostri pensieri tutto eccetera e man mano riusciremo a entrare in quelle frequenze dove dentro come fuori e allora riusciamo anche a creare il fuori come dentro su certi livelli anche far avverare determinate cose perché perché se noi veniamo potenziati c'è tu non vai potenziare uno se sai che può fare dei danni per cui è automatico questo per cui non tutti possono essere potenziati con le certe frequenze a meno che vogliono prima fare un percorso di purificazione di se stessi per poi portarlo fuori verso l'esterno perché non ti dire vogliamo cambiare il mondo se non possiamo cambiare noi stessi per primi non ha senso perché se il mondo è così vuol dire che gli abitanti eccetera sono su quelle frequenze per cambiare le frequenze del mondo devi cambiarle tu allora puoi cambiare le frequenze del mondo partendo dal proprio mondo ecco poi l'altro giorno stavo raccontando quello che intanto siamo arrivati al 24 di maggio raccontando quello che stava succedendo insomma cose semplici tipo pensavo alla Lorena in Finlande che ho consulto lì una ragazza messicana molto in gamba molto collegata con cui ho avuto veramente delle esperienze non da poco quando ci siamo vissi siamo incontrati quando parlavamo di certe cose eccetera addirittura la luce andava e veniva in quel frangente di momento di quelle cose che stavamo parlando per cui già da lì si capisce la forza dell'energia comunque abbiamo contato a Finlandia ci stavo pensando alla Lorena che abbiamo incontrato in Finlandia e dopo due giorni lei mi scrive che vorrebbe aprire delle scuole parentali lì da lei questo ci fa capire come non c'è non esiste le distanze cioè la forma più grande di comunicazione è la telepatia tu pensi alla persona quella persona ti chiama pensi a una cosa quella cosa sia vera perché? perché noi siamo energia trasmettiamo energia riceviamo energia per cui dobbiamo capire che la parola questo quattro eccetera avviene dopo ma la parte principale è quello che abbiamo dentro qua il pensiero che poi determina capito l'energia il pensiero può viaggiare dovunque nel mondo in una frazione di secondo la parola no per cui il pensiero è la cosa più importante perché poi entri dentro nella telepatia allora ieri penso ad un artigiano in Indonesia che crea delle lampade oggi mi scrive anche questo è un'altra conferma quando cominciano a essere tante cose così che diventano tante tantissime da lì capisci che non è più caso una coincidenza una cosa ma una sincronia è una forza di energia che tu trasmetti e ricevi per cui continui sempre a vivere di più su quelle frequenze perché poi ti innalzano e fanno sì che avverano le cose senza nemmeno sforzarti perché viene in automatico la Marianne deve andare a fare degli esami il giorno dopo e mi viene detto che saranno tutti e dall'alto mi viene detto che saranno tutti a posto così gli scrivo e gli ho detto che ho fatto una richiesta a Dio che era per proteggerla e che abbiamo missioni da compiere qui in questo mondo infatti il giorno dopo gli esami erano ottimi vorrei credere che era dato da quanto descritto poi domenica quando ero arrivato in softeria a Vivione vi era una bella e grande luce calorosa ed avvolgente ho ringraziato per la presenza ed il mio spirito mi ha detto che ci diverteremo insieme questa estate con diverse persone connesse e non connesse e non ancora c'è nel senso di persone sia connesse e non ancora connesse che arriveranno per ora questo diciamo e diciamo allora per ora questo non molto ma perché io non ho le frequenze abbastanza libre e stanchezza fisica per cui dovrò assorbirmi ancora di più in frequenza spirituale allora il mondo ovviamente ha tante frequenze anche molto basse eccetera intorno a noi per questo noi quando siamo in una situazione io lo chiamo l'epigenetica è l'energia che ci gira intorno quando noi siamo in una situazione eccetera energeticamente che ci assorbe un'energia o ci tiene abbassate eccetera dobbiamo cambiare energia anche di staccarci un attimo andare dall'altra parte cambiare persone cambiare tutto eccetera perché perché se siamo bassi vuol dire che quello che ci circonda non ci tiene ante è molto semplice per cui bisogna stare molto attenti al nostro stato d'animo diciamo che ci circonda e soprattutto la stanchezza fisica fa sì che il fisico non riesce più a essere come trasmettitore e ricevitore perché per avere certe frequenze spirituali devi avere anche tanta energia per cui devi focalizzare molto bene la tua energia perché se tu non hai energia non riesci ad accedervi per questo non puoi buttare la tua energia su cose che non servono niente ma devi anzi molto molto ben tutelarle per cui quando tu diciamo sei cosciente di questo devi subito dire te stesso ah ok come mi sento come tenersi tipo un diario di bordo no? su se stessi è quello che ci succede nella nostra vita sia dentro che fuori perché il fuori comunque diventa una conseguenza del dentro ecco e poi alla fine comunque l'estate sarà piena di evanimenti diciamo lì in softeria questa è la cosa diciamo perché quando siamo assorti nella materia facciamo fatica a percepire le energie spirituali perché? perché sei distratto su altre cose su frequenze più basse per cui fai fatica a accedere su quelle più alte però al stesso tempo siamo nel mondo siamo eccole per cui la diciamo la perfezione serve proprio quella di bilanciare tra i due mondi c'è nel senso dire ok questo sto facendo perché? è un lavoro se è un lavoro vuol dire che già la mia attitudine non è giusta perché la mia attitudine dovrebbe essere è un'esperienza di vita non è un lavoro perché un lavoro è una cosa più un impegno è qualcosa che non vorrei fare eccetera invece no deve essere qualcosa che tu vuoi fare perché grazie a quello che tu fai ti permette di fare delle altre esperienze di vivere altre cose altre robe eccetera che se tu non lo facessi non potresti per cui grazie a quell'esperienza ti permette di accedere ad altre esperienze per cui quando noi e la nostra attitudine la cambiamo in qualcosa di più elevato la stessa cosa porta altri risultati e come dire ho un problema allora un problema è una cosa che la mente assoggetta come negativa o di un problema qua e là non so come fare eccetera il corpo va in stress quando tu vai in stress non riesce più a essere lucido eccetera e porta tutta una serie di conseguenze valanga boh invece dire ho un problema dire devo trovare una soluzione è la stessa identica cosa è l'attitudine che cambia ecco se uno dice devo trovare una soluzione è motivato allora tu dici dentro a tutte le tue molecole interne che si smuovono non stanno terrorizzate dal problema ma sono entusiasti che devono trovare una soluzione per cui cercherai di fare di tutto per trovare una soluzione migliore e la soluzione è quella che ti da motivazione ti da ispirazione ad andare avanti a fare qualcosa il problema ti blocca per questo dico è una questione di attitudine a come entrare dentro se stessi e avere a che fare con se stessi che è molto importante per cui bisogna volere molto bene a se stessi alla propria esperienza al proprio veicolo chiamato corpo a tutto ciò che si vive ad ogni pensiero che noi emaniamo ad ogni pensiero che decidiamo di ricevere perché siamo noi quelli che decidiamo di ricevere i pensieri o no se no li mandiamo fuori dalla mente in tre secondi per cui diciamo quando noi siamo gli autori di questo decidiamo anche su che frequenza stare e in base a che noi stiamo su frequenze sempre più elevate sempre più felici eccetera riceveremo di conseguenza per cui dobbiamo rimanere su quelle ecco allora siamo trasferiti a Bibione situazione critica pieno regno dell'illusione e basse frequenze tutto basato sul corpo e di suoi piaceri ego smisurato claxon rumori disturbi e più chi più ne ha più ne mette so che fa parte della mia croce cui sono chiamato a portare per evolvermi e mettermi alla prova non potrei mai essere un messia o profeta in questa era non ne sarei l'altezza tanto complicato ma comunque so qual è la mia chiamata e non è questa simile ma non questa infatti sono stato dotato di altre caratteristiche so che sono a disposizione per chi per chi mi mandano e nel frattempo veglia su di me per mantenermi in tale situazione ovviamente con il mio libro arbitrio a farlo allora piccola pausa ognuno di noi viene qua per un motivo e dobbiamo capirlo e viverlo e quando tu lo stai vivendo lo percepisci perché sei felice in qualsiasi cosa che fai allora tu sai che sei genuinamente integrato nella tua esperienza che sei venuto a fare ecco ognuno più o meno sa qual è la sua mio mio ho sempre saputo fin da piccolo altri sì altri no altri le stanno ancora cercando diciamo ci vuole tanta verità in se stessi questo sì e tanta trasparenza e non essere presi dagli impulsi esterni allora lì ci puoi arrivare perché gli impulsi esterni sembra che ti danno a felicitarli per lì ma poi dopo devi rincorrerli sempre e continuamente e ne diventi dipendente mentre dall'interno tu sei uno stato di felicità continua e non diventi dipendente dagli impulsi esterni per cui comunque è una scelta e vivione sì molto difficile tante cose pesanti le energie pesanti c'è già tante cose soprattutto perché sono basate sull'esterno delle persone sull'ego su questo o quell'altro il godereccio del momento per cui sai fatichi però dall'altra parte se io sono stato messo qua vuol dire che posso superare questo e mettere anche a beneficio questo perché non tutte le persone vengono qua sono così per cui posso far sì che per le persone che cercano altre cose arrivino a me tramite qualcosa in loro che li porta lì perché alla fine non siamo nemmeno noi a essere gli autori, gli artefici eccetera ma dall'alto spostano le persone in base alla situazione, in base a questo in base a quello che loro hanno bisogno veniamo spostati con il nostro simile più vicino a noi per arrivare a diciamo a ristabilire quelle frequenze che magari si erano interrotte diciamo ecco a me succede spesso che sono queste cose qua che le persone arrivano e in quel momento in quel preciso istante eccetera e io comincio a dirgli quelle determinate cose non so neanche perché e loro mi dico Carlo stavo proprio pensando a questo ieri Carlo stavo proprio domandandomi questo ed ecco il perché perché loro si sono domandate hanno mandato messaggio su sono stati mandati a me io tramite me gli ho detto quella cosa di cui non so neanche perché ho cominciato a parlarne però era tutto in sincronia da lì capiamo che non siamo soli per cui quando capiamo questo capiamo tutto per cui bisogna essere dentro un'altra prospettiva un'altra frequenza per capire queste cose per cui dobbiamo alleggerirsi da quelle esterne allora ok nel frattempo in Finlandia ho un filo diretto che si alterna tra la Marianne e la Nina due giorni fa alla Nina che dovevo scrivergli e gli ho appena scritto mi ha detto che negli ultimi due giorni gli sono successi degli avvenimenti in base a cose che gli avevo detto spiegato perché quando eravamo là che eravamo incontrati eccetera su un posto sperduto in montagna in quell'occasione in quel momento preciso quella posta lì cioè perché è tutto collegato e veniamo spostati come strumenti allora poi abbiamo fatto amicizia sono tenuti in contatto e quella volta gli ho detto determinate cose poi qualcosa in me mi ha fatto pensare a lei gli ho scritto e lei stava pensando a me negli ultimi due giorni di cose che gli avevo detto quando ci eravamo incontrati mesi prima per cui da lì capiamo che non esiste di nuovo lo spazio e il tempo tra qui e la Finlandia allora gli ho chiesto come stava la Rita che era una persona in cui lei si prendeva cura e mi ha detto che era diverso tempo che non la sentiva gli ho risposto di chiamarla o scrivergli perché dobbiamo stare uniti e sostenersi in un altro dopo due giorni mi scrive dicendomi che la Rita le ha anticipato e scritto ieri chiedendole come stava e di andare a trovarla praticamente gli ho detto Nina prova a sentire la Rita qua la eccetera prima ancora che la Rita gli scriva anche lei scrive appunto la Rita la Rita si vede che ha ricevuto il messaggio telepatico mio e della Nina e la Rita gli ha risposto ciao sto bene qua la eccetera qua la eccetera e che comunque volevo venire a trovarti che gli dice appunto la Nina da qua capiamo che c'è tutta una comunicazione a livello telepatico a livello energetico a livello di anime che va oltre la persona e la materia la persona materia è molto limitata per cui da qua è un altro diciamo non prova ma un'altra diciamo testimonianza di come funzionano appunto queste energie diciamo così ha avuto di nuovo la conferma che lo spazio distanza tempo nel mondo spirituale non esiste è tutto subito nel qui ed ora in base a come siamo noi pronti a ricevere la Nina, la Rita tutti connessi e da migliaia di chilometri di distanza eppure l'altro giorno uguale con la Marianne e poi uguale con la Lorena tutte anime sulla stessa frequenza spirituale per cui quando tu cominci a connettiti su certe frequenze riesci a connettiti anche con determinate anime anche a distanza credo sia una forma anche di incoraggiamento per me di continuare a stare focalizzato e bilanciato tra i due mondi certo che qui richiede molto impegno a fronte alla Finlandia dove erano tutti su quella frequenza cioè era tutto lì per la natura l'energia le percezioni nell'aria tutto non c'era questa densità di frequenze basse che c'è qua poi è molto più facile però se sono stato messo qui vuol dire che un ultimo c'era e io devo seguire la mia chiamata perché quando uno decide di mettersi come strumento accetta anche ciò che gli viene mandato e ciò che gli viene dato perché comunque tu cominci a dimorare su altre frequenze e sai bene dove deve essere portato e perché e per come in compenso qui nel nostro monolocale c'è un'energia fortissima la mattina mi sveglio pieno di energia e la notte mi arrivano energie che mi ricaricano spiritualmente simile a quando ero in Lapponia so che sono assistito per cui sono tranquillo sotto questo aspetto auguro che ciò che ho raccontato sia d'ispirazione perché io appunto come ho detto all'inizio della serie che io mi scrivevo gli appunti pubblicavo su un gruppo mio personale eccetera le mie esperienze su cui dopo andavo a trarre diciamo quello che succedeva e poi a riportarlo qui diciamo sui video quello che intendo dire è che c'è tanto c'è tantissimo c'è un mondo c'è un mondo ci sono mondi di cose di tutto di più perché fermarsi alla materia che è così stagnante alla fine è che comunque sono la conseguenza di quello che è dentro rientriamo nelle nostre frequenze perché nell'aria vivono tante frequenze quando noi non stiamo bene o questo o quell'altro eccetera dobbiamo rientrare dentro noi stessi per ricaricarci esempio è come dire uno che è pensieroso stressato questo o quell'altro eccetera cosa fa? va a fare un giro nei boschi nelle cose eccetera si ricarica o va nell'acqua si ricarica eccetera come fa a ricaricarsi? diciamoci una domanda perché un giro nel cemento non ci ricarica ma un giro nel bosco si oppure un luogo come un altro perché viene delle frequenze energetiche e spirituali che emanano per cui da là noi dobbiamo capire che la materia è solo una conseguenza di quello che noi emaniamo e nel bosco ci sono pochi umani con le loro menti che inquinano le frequenze le frequenze e fanno le frequenze dense perché dove c'è tanta gente delle volte è bassa la frequenza è pesantissima eccetera ma nel bosco no come mai nel bosco non c'è mai una pesantezza, una mal di testa eccetera perché? domandiamocelo andiamo a fondo nelle cose perché lì ci sono altre energie che ricaricano che ridanno perché non hanno l'ego che appesantisse l'energia circostante è lì che possiamo capire veramente cosa ci sta intorno cosa 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 c'è cosa possiamo accedere per noi stessi per il beneficio di ognuno di noi perché non star bene perché non star meglio perché non entrare dentro noi stessi perché non essere quello per cui siamo venuti a fare perché limitarci al fuori solo perché siamo insicuri incerti o paurosi eccetera se noi vinciamo diciamo la nostra mente la nostra incertezza il nostro tutto eccetera diventiamo imbattibili diventiamo diventiamo illimitati diventiamo illuminati usciamo dalle tenebre usciamo dal buio perché non farlo perché non farlo veramente perché no e da lì se non riusciamo a capire questo possiamo accedere ad altre frequenze in cui succede il tutto questo è solo un assaggio quello che è successo ma c'è tanto di più perché è nato avanti fino a settembre ma adesso siamo ancora inizi c'è neanche fine maggio per cui io spero che veramente le mie testimonianze possono aiutare a dare ispirazione dare motivazione ad entrare dentro di noi a entrare dentro questo mondo perché più siamo più il mondo esterno diventa così perché il mondo esterno rifletta quello che noi siamo dentro per cui se noi siamo ritorniamo alla nostra coscienza spirituale anche fuori vibrerà questo ma dipende da noi dobbiamo volerlo noi per primi perché se no se noi non possiamo emanarlo non possiamo riceverlo non puoi emanare qualcosa che non è dentro e quella trasformazione è fatta dentro questo dobbiamo capirlo niente fuori può cambiare bene chi ha piacere chiede di condividere il video che più siamo più riusciamo a risollevare tutto insieme e vi voglio bene grazie per esserci e alla prossima puntata grazie di cuore vi auguro e bene ciao